In realtà dopo esattamente 5 minuti fu il mio che faceva il momento, quindi c'è un legame, una porta sottilissima che lega le due, dell'esistenza, che fa sottolineare il concetto di presenza e di assenza. Per quanto doloroso, se è la nascita, la nascita è il concetto dell'assenza e della presenza. Sono stata seriamente criticata per la sciarpetta rosa. Cioè qui siamo a un vernessaggio e mi diri di Caneo c'è la sciarpetta rosa confetto, ma dov'è la cultura? Il elemento fantastico è la caratteristica disservatoria di queste pitture originali. Mi soffermo sul Dallino di Perangelo e sul Mosè di Perangelo e sul Pio ha liberamente interpretato. All'entrante è stata data in mano, insomma, è stato accaduto un oggetto dei giorni nostri, un oggetto dei giorni ero, con un'altra giornata. E allora per la discussione è molto, è tutto successo, è tutto il grande cuore che oggi giorno si fa a livelli determinati oggetti. Grazie. Anziché, sono...